Ciao, piacere, sono Marina e lavoro nel benessere. Sono operatrice shatsu, massaggiatrice in tecniche olistiche e tengo corsi di formazione appunto in tecniche olistiche di massaggio. E quando ho incontrato Sabrina nei social sono rimasta attratta dal suo metodo stella perché ho notato che trattava degli argomenti che avevo già incontrato nei miei percorsi di crescita personale ma riguardo i quali mi rimanevano comunque delle incertezze e delle lacune. Ho notato leggendo nel suo sito che questo metodo poteva fare al caso mio e appunto completare la mia conoscenza riguardo ai temi che vengono trattati sulla immaginazione creativa e chemica e la manifestazione della realtà che veramente vogliamo vivere e quindi ho deciso di regalarmi questo percorso con lei. Ho scelto il percorso in sette incontri. Sabrina mi ha seguito in maniera molto professionale, spontanea ed amichevole arrivando subito al focus del lavoro senza perdere tempo. Ho ricevuto gli strumenti necessari per comprendere meglio come trasformare tutti quei loop, tutte quelle reazioni automatiche che abbiamo ogni giorno quando andiamo appunto a reagire e quindi a continuare ad attrarre le situazioni nella nostra vita che ci creano disagio. Quindi ho compreso come attraverso la presenza e l'autosservazione trasformare questi automatismi in modo da poter vivere una vita in maniera più autentica e nella presenza. Quindi ho completato proprio la visione, ho ricevuto gli strumenti da utilizzare ogni giorno, di cui avevo bisogno e li potrò utilizzare anche finito il percorso tutte le volte che voglio, quindi è qualcosa che rimane sempre con noi per migliorare la nostra vita. Ho potuto quindi osservare meglio quali erano quei meccanismi che ancora mi creavano disarmonia e con gli strumenti giusti andare a lavorarci per creare quella che io desidero come nuova immagine di me e nuova realtà che voglio che voglio realizzare. Quindi è stato un percorso che mi ha aperto gli occhi completamente su qualcosa che avevo già osservato ma non compreso in maniera così chiara e semplice come in questo percorso con Sabrina puoi arrivare a interiorizzare, ad aumentare la tua consapevolezza. quindi gli strumenti che vengono forniti secondo me sono fondamentali per tutti, sono delle conoscenze che tutti dovrebbero avere nella loro quotidianità per poter veramente vivere in modo più autentico, completo e sereno perché tutti meritiamo di vivere la vita che desideriamo veramente e quindi buon lavoro se scegliete questo metodo io veramente mi sento di consigliarvelo. Ciao a tutti Ciao a tutti